Ragazzi, potete abbassare un po' il volume della musica? Sto cercando di leggere! Ma, ma, cosa state facendo? Scendete immediatamente di lì, subito! Ma, cosa stavate facendo? E' che siamo andati a vedere il carattaciccio in casa dove c'è casa. E cosa sarebbe? E' uno spettacolo di approbazie e teatro. Un spettacolo che potrei definire poetico, sgangherato, allegro, movimentato. E' la musica prima di scarica. Sì, ma tutta la scenografia è fatta con materiale di recupero. E anche i personaggi, oltre agli oggetti, sono scatti della società. Gli attori vengono da Polonia, Italia, Romania, Udria e Russia, giusto? Sì, esatto. E sono attori di teatro, di circo, di arti di strada e anche acrobati ai massimi livelli. E questa volta c'era anch'io! Non mancate! Andate subito a vederlo!